La moto è molto molto bella esteticamente, sembra una rivoluzione ma fondamentalmente non lo è perché tutti i passi sono stati ponderati, i numeri calcolati bene. Per me riuscire a riportare Aprilia in alto il MotoGP è sicuramente il sogno nel cassetto ad oggi. Io ci metterò tutto me stesso come ho fatto sin dal primo giorno che siamo qui, come tutta l'azienda, tutta l'Aprilia, quindi questa moto la sento anche molto mia. So quanto abbiamo fatto fatica, quanto abbiamo lavorato, quanto ci siamo dedicati e quindi sono contento. Non vedo l'ora di guidare la mia Aprilia e di riuscire ad essere competitivo.